Il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro, non hanno emolato, mai, hanno messo il campo a determinazione, voglia e alla fine la vittoria è giustamente conquistata quando fai così. Abbiamo assistito a una rimonta, quali sono le tue impressioni? Sono queste Fabio le vittorie che danno più fiducia, quando si pensa di essere in difficoltà, di non riuscire a rimontare una partita e invece poi alla fine ce la fai. Si chiude qui il nostro collegamento, un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie e a presto Fabio. Grazie. 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 Grazie.